ciao buongiorno sono franco il tevito operatore come ti chiami da dove vieni elena dietro l'angolo allora giochi quasi in casa e furba tu il tandem oggi l'hai deciso 2 o regalo così e come è venuta in mente brava brava ti hanno spiegato tutto ti ricordi tutto speriamo dai non ti preoccupare che ci divertiamo adesso andiamo su e prendiamo un po tali almeno ci rinfreschiamo un pochino mi raccomando divertiti e benvenuta al campo di reggio emilia ci vediamo dopo qui è con te ciao fratello te la riportiamo dopo sei a bordo vai elena vai te la riportiamo andiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta. Eh vabbè mi copri pure la visuale. La scopro subito. Eh dai. Ciao Elena. Sono viva. Ti è piaciuto? Sì tantissimo. Mi serviva questa scarica. Hai visto? Bravissimo.